Fun! Numbers! D'accordo, Kermit. Chi è il prossimo sulla lista? Ehm... Junior. Sei serio? Sì, perché? Ok, lui lo saltiamo. Cosa? Perché? Perché è uno stupido sfigato! Wow, ok. Sono arrivato nel momento sbagliato. Per quale assurdo motivo Junior si trova sulla lista degli aumenti del budget? Aspetta, è quella degli aumenti del budget? Mi spiace, forse non sono abbastanza fico per essere sulla vostra lista. Ok, senti, il problema non riguarda il tuo stato sociale, Junior. Il problema è che sei un debole stronzetto. Oh, davvero? Signori, signori, vi prego. Se credi che il tuo incremento del budget sia così fico... Vediamo come te la cavi con un decremento del budget. Aspetta, hai detto un decremento? Ah, merda. Preparati al decremento del budget, Sel. Vi presento il cetriolo finale! È la stronzata più divertente che abbia mai visto. Odio questo posto. Beh, almeno non può andare peggio di così, Sel. Ah ah ah, ti sbagli di grosso figlio di p***a! Sono cetriolo REEEEEEEK! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito fatelo sapere qui sotto ai FanDubbers. E ora passiamo ai salumi. Allora, io che sono Pippo ci tenevo a salutare Stefano Gemello. Ciao Stefano, fai il bravo! Odio! Io che sono Light Yagami ci tenevo a salutare Light Yagami. Ciao, mio amonimo! Oh, hey! Io sono Karl e volevo salutare FR24CY. Ciao, fratello! Ti aspetto a casa mia per contribuire al mio drago di carne, non puoi mancare! Ciao, io invece sono Hamilton e volevo salutare Giulia Gasperi. Ciao Giulia! Io e Jay ti aspettiamo sulla nostra pene astronave, non puoi mancare!